Maxi Rissa, tra giovanissimi, scoppiata per futili motivi. Una ventina, quelli che si sono affrontati a calci e pugni, ma non solo, ad un certo punto è spuntato addirittura un coltello. Questo quanto è successo a Subbiano, ai margini della tradizionale festa dell'Uva. A lanciare l'allarme sono stati alcuni presenti, impauriti per quanto stava accadendo. Sul posto così sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri che hanno immediatamente fermato due giovani che si stavano fronteggiando. Uno di questi poi è stato trovato in possesso anche di un coltello subito sequestrato. Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare anche altri tre ragazzi che hanno preso parte alla Rissa, tra questi un giovane ferito ad uno zigomo dopo un pugno al volto. I cinque ragazzi, di cui quattro italiani ed uno straniero, alcuni maggiorenni, altri minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di Rissa. Il giovane che aveva con sé il coltello dovrà anche rispondere di porto abusivo, d'arma o d'oggetti atti ad offendere. Proseguono adesso le indagini da parte dei militari che stanno visionando anche i filmati delle telecamere di sicurezza per individuare tutti i responsabili della Rissa. Grazie.